Presidente Cartisano, un'altra vittoria interna importantissima contro il Locri. Decide Moio, un'altra prestazione importante per la formazione del Gallico Catona che addirittura questa sera è fuori dalla zona play-out. Sì, un grande vittoria perché oggi dobbiamo ringraziare il mister, i ragazzi che è un bel gruppo compatto e hanno resistito dal sesto minuto, settimo minuto che abbiamo fatto il gol ha fatto una grande partita fino all'ultimo minuto di gioco. No, va un applauso a tutta la squadra, a tutto lo staff che ha fatto una grande vittoria contro una squadra che mira per vincere il campionato. Adesso si deve solo invertire la tendenza esterna dove abbiamo ricimolato solo un punto e a Paola domenica prossima, una paolana ringalluzzita dalle vittorie di questo oggi esterno a scale addirittura. Vabbè, non ti ricordo che da domani aprono le liste quindi qualsiasi squadra si va a rinforzare anche noi andiamo sul mercato a prendere qualche ragazzo in più per rinforzare la nostra squadra e quindi da oggi in poi è un campionato di ritorno, vai a guardarlo su un altro modo. Adesso siamo con il mister Umberto Scorrano del Locri, mister, i rimproveri, la tifoseria che ha protestato contro la sua squadra. Come mai questo Locri non riesce ad imbastire soprattutto azioni offensive di una certa intensità? Zampaglione, giocatori importanti come i libri. Quest'oggi soprattutto nel primo tempo siete stati molto in difficoltà, poi nel secondo tempo il mister Scorrano ha fatto ben cinque cambi. Cosa manca al Locri per essere al pari delle più forti del torneo come San Luca? Cosa manca a questo Locri? Manca tanto, manca la fame, la voglia, la determinazione che ci vuole in determinate situazioni per poter vincere la partita. A noi in questo momento stiamo pagando tantissimo gli errori singoli. Pure nell'occasione del gol loro c'è stato un errore sul rinvio che potevamo evitare. Però non è un discorso di errori, non è proprio come mentalità. Non siamo entrati da mentalità importante nel poter cercare di venire qua e vincere la partita.